Slitta ancora una volta la decisione sulla riapertura del viadotto Puleto lungo la E45, sotto sequestro dallo scorso 16 gennaio. La procura di Arezzo si è presa alto tempo per esaminare le carte alle quali stanno lavorando i due tecnici incaricati, ingegneri Antonio Turco e Fabio Canè. I consulenti sarebbero titubanti sulla riapertura del tratto tra Val Savignone e Canili, considerando addirittura un azzardo il ripristino della circolazione, anche in caso di flussi dedicati solo al traffico leggero, senza camion sulle due corsie centrali, con limiti di velocità e sensori, il cosiddetto piano B proposto da ANAS, che ha comunque dato la disponibilità ad avviare il più presso i lavori sull'infrastruttura. In volo anche un drone, messo in azione dai consulenti della procura Aretina, ma le foto scattate avrebbero restituito delle immagini impietose del viadotto. Gli scatti avrebbero infatti immortalato le condizioni preoccupanti dei bagioli esterni dell'infrastruttura, ossia il cuscinetto di calcestruzzo che fa da ammortizzatore tra il piano stradale e il pilone, anche esso come già noto, ma ridotto e col ferro dell'armatura vista. Dunque ancora ore di valutazioni in attesa della relazione dei consulenti sul viadotto che a breve potrebbe essere consegnata nelle mani del procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi.